Sarà un festival di dimensioni nazionali, così il direttore artistico del Passioni Festival, Andrea Scanzi, ha presentato la quinta edizione della Kermes, che sarà la più lunga e ricca di sempre. Sono consapevole di avere portato e di portare nei prossimi giorni grandi ospiti. Io ho 43 anni e onestamente non ricordo in cinque giorni la mia città invasa da figure così belle che appartengono a tutti i campi della cultura, quindi non solo la musica, come era per esempio a Red So Wave, ma anche la letteratura, il giornalismo, la scrittura, il cinema. E quando parlo di grandi nomi penso a Gigi Proietti, penso a Flavin Sin, penso a Simone Cristicchi, penso a Rigo Sacchi, penso a Diri Abbate, Emiliano Fittipaldi, Edoardo Leo, Francesco Montanari, Maccio Capatonda, Claudio Lippi e sicuramente qualcuno l'ho dimenticato. 14 ospiti, 14 eventi in cinque giorni, rigorosamente ingresso gratuito all'Arena Eden. Io se fossi un aretino, e lo sono, me le godrei parecchio queste cinque giornate. L'appuntamento è dal 26 al 30 giugno nella cornice dell'Eden di Arezzo. È un grande evento che sta crescendo, che sta superando i confini provinciali, finalmente un prodotto di aretini, fatto per i non aretini. Grazie a Scanzi, a Meazzi, a Cialini, coltiviamo delle grandi passioni e proponiamo momenti molto coinvolgenti. E quindi Estra non poteva dirsi estranea a un evento, a più eventi che stanno facendo crescere culturalmente, una città che è stata severamente punita dalla crisi economica e che può e deve tornare a vivere in armonia anche con la propria crescita personale.